Eccoci qui, ben ritrovati, come state? Un saluto a tutti, un buon weekend, weekend di vacanza, relax, lavoro per me lavoro, ma anche un po' di relax, non di calcio, beh a parte la partita dell'Italia. Avete visto ieri, io sinceramente non l'ho vista, non mi solleticava per niente, ho visto che ha fatto due gol Reteghi, si può seguito ovviamente, un pasticcio mezzo di Tonnarumma dietro, difesa così così, centrocampo, insomma, non una grande nazionale. Qualcuno però già propone il nome di Reteghi per il Milan, è vero che il nazionale sta facendo bene, però mi aspetto decisamente qualcosa di più. Comunque, come state? Scrivetelo qui sotto nei commenti, lasciate un bel like, iscrivetevi da questa parte, numerosissimi, e seguiteci ovviamente anche su Instagram. Sul mio canale personale c'è qui sotto il link, grazie per chi viene anche di là, ovviamente gratuito, iscrivetevi, attivate la campanella, numerosissimi, ci tengo tanto, ma seguiteci anche su Instagram qui sotto perché siamo partiti pure su quel social con il coordinamento di Davide Rosseghini, qui sotto appunto trovate tutto. E tra poco ci sarà anche il video podcast, il primo video podcast in collaborazione con Fabrizio Rota su Marco Van Basten. Top, 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 top. Domani ultimerò una parte di video, una registrazione che manca e poi avremo tutto il materiale per il montaggio finale. Spero e credo, sono sicuro che sarà molto bello. Però veniamo a noi, allora ragazzi, siamo al 22 marzo, un paio di mesetti finisce tutto, devono accadere tante cose e vediamo un po' appunto che cosa accadrà. Allora, nel video precedente vi parlavo di pioli e dicevo che le quotazioni di una conferma sono in rialzo, io non condivido questo, è chiaro che poi c'è anche il tema infortuni che ha condizionato. Tu dici, risolvi i problemi infortuni e ti puoi tenere pioli. Vero è che senza infortuni le cose saranno andate diversamente, ma non credo così completamente all'opposto, anche perché abbiamo fatto anche brutte partite pure con i titolari. E' vero che poi la difesa è stata pressoché azzerata. Pensate che su 41 gare stagionali Calulu ne ha saltate 29, che ne salterà ancora di più purtroppo. Chao 14, quindi un terzo. Tomori 13, anche lui circa un terzo. Kier 10, tutto questo per infortuni, una su quattro. E quindi hai quattro, tra titolari e cotitolari, che saltano la bellezza di 27-37. 66 partite a oggi sono numeri importanti. Però lo storico di Pioli ci dice che ogni anno lui gli infortuni li ha avuti. E che tra l'altro poi nella seconda parte di stagione diminuiscono. Quindi non è perché adesso non ci sono infortuni o qualcosa c'è, che dice ha risolto quel problema. Anche gli altri anni era così. Prima parte molto negativa, seconda parte buona. Quest'anno prima parte terribilmente negativa, seconda parte buona. Però l'anno prossimo lo storico dice che se resta prima parte infortuni, seconda parte buona. È vero che hanno condizionato perché non avere Calulu per 29 partite, ciao per 14, tu mori per 13, Kier per 10, incide. A questo proposito, Kier. Kier ha parlato, e poi parliamo di una situazione ben più delicata, non ce ne voglio a Kier. Kier ha parlato del ritiro della sua nazionale e ha detto io vorrei restare al Milan. Cioè, anche se la decisione arriva tra due mesi non mi interessa, io vorrei restare al Milan. È ovvio che anche se arriva tra due mesi non interessa. Lui aspetta, spera. Però ragazzi, da amante del Principe Azzurro, Kier, volevo ricordare a tutti che lui tra quattro giorni fa 35 anni, il 26 marzo. Quest'anno ha fatto anche delle partite buone, perché comunque 17 in totale in Serie A, poi tra tutto, tra Champions, eccetera, è arrivato a 22 partite, 1379 minuti. Quindi ha giocato circa 14-15 partite, facendo anche un assist. Però a me sembra davvero arrivato. Cioè, che sia chilometrato è evidente. Che sia usurato l'ogoro altrettanto per via di quel, purtroppo, bruttissimo infortunio che aveva rimediato in quel dicembre di un dicembre a Almarassi. Un altro anno io non glielo darei. Per me può essere prezioso un domani rientrare nel Milan come dirigente, come staff. Assolutamente sì. Anzi, lo spero tanto, perché è anche una persona, una bella persona, un bel personaggio di calcio. Ma io, lui diceva anche che ho rifiutato la rabbia per il Milan. Sì. Però. Ti vogliamo tutti un gran bene, ma non è il caso di continuare. Poi, Dalmina, sì, vediamo tra due mesi, però io, in certi momenti bisogna essere molto freddi, non guardare in faccia a nessuno, soprattutto la componente affetto, e capire che è arrivato il momento di cambiare. Lo dico per Kier, non lo dico ancora per Giroux, al quale un altro anno glielo darei. Però, voglio leggere anche i vostri commenti qui sotto. Un altro anno glielo dai, buh, ma a me sembra che faccia fatica, faccia tanta fatica. Dopo l'infortunio, purtroppo, fa molta, molta fatica. E poi, non sai, una volta ce l'hai, poi entra, poi magari dura poco, deve gestirsi, lui sta giocando di esperienza, di posizionamento. Però non è più cosa. Simo, perdonami, ma è così. Almeno questo è il mio punto di vista, ma leggerai nel caso i commenti degli altri diversi qui sotto. Tanto affetto, ma voltare pagina. 35 anni suonati, cioè suonati, devi fare altre tre giorni, ma saranno 35 anni suonati, cioè veri, che si sentono tutti. Dall'altra parte, invece, sono settimane di attesa, delicate su tanti fronti, anche sul tema dei rinnovi di contratto. E purtroppo, vorrei raccontarvi una cosa diversa, ma non posso. Vedo tutto piuttosto fermo. E se parliamo di rinnovi di contratto, non metto dentro neanche Giroud, che è una scelta più sua, ma metto Tevernandez e Mignan. Se per Mignan, però, ci sono stati dei contatti, la trattativa è iniziata, è più che imbastita, ma non è ben avviata, ma almeno si parlano. Lo stesso, però, e questo secondo me è incredibile, non si può dire per Tevernandez. C'è stata qualche telefonata, nelle ultime due settimane, ma, sì, ci sentiamo, eh. Dal Mignan non è arrivata all'entourage a Kijon, all'entourage di Tevernandez, quella volontà di, no, no, assolutamente, non vogliamo perderti, sediamoci, becchiamoci subito, troviamoci, parliamo quanto vuoi, dai, cerchiamo di... Questa cosa qui non è arrivata perché non c'è stata. E io lo trovo assurdo, perché Tevernandez è un top player clamoroso, con i suoi limiti, che magari la mancanza di costanza nella stagione, qualche pausa che si prende, però, ripeto, oggi tiri una riga, 10 gole, 5, scusate, 5 gole, 10 assist, e ha due reti da Paolo Maldini, tra i migliori marcatori del ruolo di difensore della storia del Milan, ha agganciato Maldera. Io questo silenzio assordante, figura retorica spesso abusata, ma che rende molto bene l'idea, lo trovo incomprensibile. Cioè, tu devi avere la priorità quella di provare a rinnovare Tevernandez. Sei rassegnato sul nascere perché prende 5 milioni di euro e quindi non gliene puoi dare 7? Beh, è comunque incomprensibile. Se ci fosse, non sono una vedova di nessuno, però, se ci fosse Paolo Maldini, non avrei dubbi, anche perché è stato importante quel famoso Ciringuito di Ibiza a chiudere l'operazione, non avrei dubbi, che non saremmo allo zero assoluto, ma saremmo una trattativa sicuramente non facile, sicuramente complicata, ma calda. Saremmo, rispetto a un rettilineo e un traguardo, metri, metri, metri più avanti, rispetto che all'inizio, dove ti guardi un po' attorno e vivacchi, o tendi a vivacchiare. Tevernandez, io non lo vedo lontano dal Milan, però, dal suo entourage, arriva questo, cioè che in assenza di vera e propria trattativa, e oggi una trattativa non c'è, lui sarà costretto a guardarsi attorno, o meglio, sarà costretto ad ascoltare le offerte. Il Bayern Monaco ha già contattato il suo manager, e Teo si aspetta un'offerta importante, anche per lui, da punto di vista di ingaggio, dal Bayern Monaco. Alcuni club di Premier hanno fatto dei sondaggi, e la sensazione del suo entourage è che, a breve, questi sondaggi diventeranno qualcosa di più. Non solo, dal suo entourage, hanno avuto anche contatti con, attenzione all'Arabia Saudita, e attenzione all'effetto, al fattore Arabia Saudita, Conteo che, potrebbe anche fare come altri hanno fatto, che sì, Milinkovic-Savic, Milinkovic è, nel momento migliore della carriera, ha deciso di fare una scelta economica, cioè andare a accettare un ingaggio stratosferico. Se il Milan oggi viene da 5, e potrebbe magari arrivare ad Aliene 6, 6 e mezzo, il Bayern Monaco potrebbe arrivare ad Aliene 8, l'Arabia Saudita potrebbe arrivare ad Aliene 15. Magari anche di più. E quindi Teo si troverà di fronte a una scelta di vita, sportiva, economica, definitela voi come volete. Quindi, l'Arabia Saudita potrebbe essere una variabile importante nel futuro di Teo, che deve capire se vuole continuare a fare il calcio ad alto livello o andare a guadagnare tanti soldi in un calcio molto, molto, molto secondario, che non andrà neanche a decollare, perché mi sembra che anche quella cosa lì si sia piuttosto fermata. Poi vedremo le prossime campagne acquisti. Detto questo, il Bayern Monaco, se vuole Teo, deve sbostare una cifra clamorosa. Lo stesso per l'Arabia Saudita, che però non è che loro sono famosi per dare ingaggi stratosferici, ma non per pagare cartellini stratosferici, a parte qualche eccezione. È chiaro che però Almeida a quel punto deve cercare di massimizzare i ricavi e quindi chiedere anche la luna per Teo Hernandez. Però io non vorrei arrivare in quella condizione lì. Cioè, per me il Milan dovrebbe rinnovare Teo, provarci quantomeno. E invece non lo sta facendo. Il fattore Ibra, questo è un cattivo pensiero. Non sto dando una notizia, ma un cattivo pensiero. Ibra, entrato nel Milan, ha preso le misure, e ora, come vi dicevo nel video di questa mattina, da non perdere, ve lo metto sull'home page di Milanello, guardatelo perché è molto importante, fa capire tante cose, Ibra vuole costruire un Milan Ibra-centrico, come era la squadra quando lui giocava. Vuole fare lo stesso. Per questo, scusate, rifiuto una chiamata, Maldini, a livello anche di immagini, è legato a Teo Hernandez. Non vorrei che Ibra facesse un ragionamento di quel tipo lì. Ibra è uno molto orgoglioso, molto pieno di sé. Non vorrei che ne facesse una questione personale, come spesso accade anche a tanti dirigenti che arrivano e tagliano i giocatori delle presenti gestioni, non vorrei che lui non stia dando priorità a Teo Hernandez, perché Teo è merito di Maldini. Sarà un discorso che può sembrare anche infantile, ma credetemi, anche ad alti livelli accadono queste cose. È un cattivo pensiero, non so, dicendo che è così. Però, non mi spiego diversamente, perché oggi Milan non abbia davvero iniziato una trattativa con il manager di Teo Hernandez. Per me è da rinnovare assolutamente. Cioè, le decisioni abbiamo fatta su Leao, adesso facciamola su Teo. Il silenzio assordante fa capire che il rischio di perdere purtroppo c'è. E non riesco a farmi una ragione. E sono sicuro che se ci fosse stato Maldini avrebbe fatto di tutto per rinnovare. Cosa che il Milan... Oggi la notizia è questa. Il Milan non sta facendo di tutto per rinnovare Teo. Anzi, sta facendo nulla. Perché? Come mai? Condivisibile sì oppure no? Per quanto mi riguarda, no. Ditemi che ne pensate. Commentate numerosi qui sotto. Lasciate un bel like. Iscrivetevi da questa parte. Iscrivetevi anche al mio canale personale. Qui sotto vi metto il link. Mi raccomando, ci tengo possiate venire numerosissimi. Mi farebbe molto, molto piacere. Ringrazio chi lo farà. Verrò a vedere anche i nomi. Andate a vedere il video di questa mattina. ne vale davvero la pena. Un abbraccio e buon weekend. Ciao a tutti.